Qui tutto si trasforma in un momento personale, una dedica ai propri piaceri e passioni. Qui trovi parole semplici per comprendere approfonditamente ogni tipologia di tecnica che serve per personalizzare la tua auto, moto o barca. Abbiamo il piacere di presentarti la struttura che in questo momento brilla di tutte le tecnologie e gli strumenti più aggiornati. Mille metri quadri che integrano la hall di accoglienza, la showroom per la visione dei prodotti, il salone dove risiedono le postazioni di lavoro distanziate e complete di tutto il necessario per eseguire lavori a regola d'arte. Il reparto di verniciatura con il più tecnologico forno installato in Italia e la sala dedicata ai colori speciali. Ogni prodotto utilizzato da Weekend Pro è stato selezionato fra le migliori marche sul mercato mondiale ed installato da professionisti in grado di promettere un lavoro superlativo da ogni punto di vista. La salute della nostra auto è importante perché è il primo requisito della nostra sicurezza, quindi anche in termini di carrozzeria è importante proteggere la stessa da deterioramenti causati dal tempo e dalle condizioni meteo. Parlare di protezione dell'auto è diventato anche molto divertente perché alla sicurezza e dalla protezione si è unita spontaneamente l'estetica, diventata oggi il messaggio principe della nostra personalità. Da Weekend Pro uniamo le tecniche di stampa digitale alla verniciatura, sistemi adesivi a speciali trasparenti protettivi, immagini a tecniche di pubicatura ed aerografia. Qui trovi tutte le soluzioni più innovative e divertenti per rendere possibile il tuo progetto custom. Un piccolo sassolino può diventare il motivo di una nevrosi per un appassionato di motori. Quando questo colpisce l'auto ad una velocità sostenuta, per quanto sia resistente la vernice può scalfirla anche in maniera profonda. Nel tempo, paraurti e cofani di molte auto vengono deturpati dai detriti stradali. Per tutti questi fattori esistono prodotti e sistemi di ogni tipo per la protezione della verniciatura. Le pellicole adesive StoneGuard, chiamate in gergo PPF, le nanotecnologie applicate nel settore del detailing, fino a sistemi più sofisticati e pregiati come il CWR3. Tutti i prodotti di verniciatura scelti da Weekend Pro abbracciano le migliori case automobilistiche. I colori originali di casa madre li trovi qui, posati da personale qualificato che opera in un'area completamente tecnologica ed innovativa. Da Weekend Pro, il forno è la punta di diamante a livello tecnico, strumento in grado di garantire un lavoro privo di imperfezioni. Completamente elettronico, esegue il ciclo di verniciatura stabilizzando automaticamente i flussi dell'aria e della temperatura. Il verniciatore è assistito da un'ottimale condizione di luce che gli permette di vedere con maggiore facilità ogni dettaglio durante la spruzzatura dei colori e dei trasparenti. I nostri verniciatori hanno una formazione specifica sulle supersportive, auto che richiedono protezione e personalizzazione di alta qualità. Per questo, il reparto painting della Weekend Pro è anche la scuola di formazione per la posa del CWR3, prodotto all'acqua che si trasforma in uno scudo plastico sulla carrozzeria. Tutto questo è Weekend Pro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.